torniamo a parlare di premio galileo la più importante rassegna italiana sulla divulgazione scientifica oggi parliamo di schiavi del click perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo un libro particolare perché non tratta di una nuova scoperta ma ci spiega come il web negli ultimi anni ha cambiato non solo il nostro modo di rapportarci ma anche quello di lavorare siamo qui a parlarne con antonio casilli sociologo docente all'istituto politico di paris buongiorno 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 ecco la prima domanda è una curiosità personale di solito quando si parla di click almeno il sottoscritto che non è un nativo digitale si pensa a facilità a libertà e invece parla di schiavi del click vuole spiegarci in che senso intende questa espressione schiavi del click è una maniera di sottolineare gli elementi e le dimensioni di alienazione che possono esistere nel contesto del digitale questo libro che incidentalmente è stato inizialmente scritto in francese poi tradotto in italiano e adesso sarà anche tradotto in inglese e in altre lingue è una una maniera di affrontare una tematica che diventa sempre più visibile negli studi di internet e delle tecnologie ovvero sia il fatto che le promesse associate alle tecnologie digitali le promesse di democrazia di liberazione del tempo di miglioramento delle nostre condizioni sociali ed economiche sono state disattese sono delle promesse che si sono rivelate molto meno interessanti e molto meno possibili da realizzare allora da questo punto di vista una di queste promesse era associata alla liberazione del lavoro vero sia il fatto che con il digitale ci saremmo trovati in una situazione di libertà nomadismo autonomia e certamente di diciamo una soluzione all'alienazione e allo sfruttamento che avevano caratterizzato il contesto lavorativo da diversi secoli adesso purtroppo e questo ai noi la crisi pandemica l'ha dimostrato in una maniera molto urgente e dolorosa anche per tantissime persone il fatto di servirsi di piattaforme di comunicazione oppure di strumenti digitali non diciamo elimina gli elementi di alienazione gli elementi di isolamento gli elementi di subordinazione quindi questa è la premessa del libro e questa è su soprattutto una cosa che abbiamo davanti agli occhi potuti e un po' tutte il fatto che sostanzialmente ci troviamo all'interno di un sistema nel quale produciamo valore non soltanto in contesti lavorativi classici voglio dire se io sono un dipendente di un'azienda e mi servo di una piattaforma come zoom una piattaforma di mail una qualunque altra piattaforma di comunicazione certo sto producendo del valore per la mia azienda ma anche per la piattaforma ma c'è una maniera più suddola di diventare tra virgolette schiavi del click ovvero sia di produrre valore anche durante il nostro tempo libero anche durante le nostre attività di consumo pensiamo per esempio all'uso di piattaforme di entertainment quelle di video di musica di immagini e via di questo passo che sono estremamente popolari da instagram a netflix noi cliccando produciamo valore che queste aziende sono capaci di monetizzare principalmente in due maniere la prima è che rivendono questi dati ovvero sia li monetizzano e la seconda è che si servono di questi dati per produrre delle soluzioni che si chiamano di intelligenze artificiali ovvero sia delle soluzioni automatiche che per esempio non so ci suggeriscono i migliori prodotti oppure non so in alcuni casi alcune aziende si servono dei nostri dati addirittura per si dice addestrare veicoli autonomi quindi automobili senza guidatore per modo di dire ovvero o ancora per esempio droni e altre soluzioni digitali questo spiega anche per quale motivo il titolo originale e questa è una curiosità del libro in francese era an attendant le robot che significa in italiano aspettando i robot che è una specie di evocazione di samuel beckett aspettando godot e godot per quelli che conoscono questa tragedia di samuel beckett è un essere che non arriva mai misterioso non si sa chi sia e non si sa quando arriverà e nella stessa maniera i robot per l'automazione hanno una certa tendenza a non arrivare mai vero sia non siamo mai di fronte alla automazione completa perché perché l'automazione siamo noi l'automazione siamo noi che la facciamo con i nostri dati con i nostri click con la nostra attenzione con il nostro sforzo costante di essere visibili e di essere in contatto e in comunicazione sulle reti sociali e sulle piattaforme che usiamo tutti i giorni lei parla anche di lavoro occultato dietro a volte il paravento dell'intelligenza artificiale ma su quello poi vorrei farle un'altra domanda adesso però vorrei chiederle in che senso postare un video un commento su facebook o instagram è un lavoro non retribuito nel senso da una parte nessuno mi obbliga dall'altra anche un tempo si investiva comunque nelle relazioni sociali e nella propria immagine e allora come ha cambiato il web questo nostro modo di interagire tanto da far parlare addirittura di un lavoro un lavoro non riconosciuto non retribuito come lei fa nel libro il web ha cambiato questa questa situazione ovvero sia il fatto che anche il consumo produca valore centralizzando delle grandi basi dati e soprattutto fornendo degli ambienti digitali come facebook come google che sono dei piccoli mondi sono dei grandi mondi in realtà perché sono globali nei quali ciascuno di noi produce dei dati i quali possono essere dunque federati messi insieme e poi analizzati in maniera molto più diretta e facile anche se poi estremamente sofisticata rispetto al passato vi faccio un esempio comparando due situazioni storiche diciamo così da una parte pensiamo a la generazione precedente 50 o 60 anni fa il fatto di andare al cinema per esempio certo poteva eventualmente produrre del valore per il proprietario della sala cinematografica oppure per colui che aveva o coloro che avevano prodotto il film ma non c'erano altri intermediari come per esempio oggi la piattaforma netflix o altre piattaforme che sono capaci di estrarre valore da questo ma le piattaforme fanno qualche cosa di più al di là di estrarre questo valore sono capaci di mettere insieme tutti i dati di tutti gli spettatori e poi servirse per esempio per produrre calibrare delle intelligenze artificiali che sono per esempio capaci di suggerirci solo i film che almeno su carta sono i più adatti a noi più adatti per lingua più adatti dati i nostri interessi più adatti da una serie di leggi per esempio che vivono in diversi paesi e quindi di questo in questa maniera queste piattaforme sono capaci di fare quello che si faceva già primo che lo sia estrarre valore a partire da attività attività di leggero che lo sia di divertimento di consumo anche di vacanza ma estrarre valore in una maniera molto più inesorabile dopo tutto ovvero sia alla quale non si può scappare allora questo è effettivamente la grande differenza poi ci si aggiunge anche il fatto che questo valore non è estratto una sola volta per tutte ovvero sia non è soltanto quando guardiamo netflix o un film su netflix per esempio che produciamo valore questi dati possono essere rivenduti a diverse diverse aziende a diverse strutture pubblicitarie possono essere perduti perfino a governi a municipalità possono essere venduti o utilizzati utilizzati per produrre diverse soluzioni tecnologiche gli stessi dati li possono si possono rivendere che ne so un'azienda che si occupa di computer vision a un'azienda che produce film a un'azienda che produce apparecchi mobili o strutture mobili tecnologie mobili di diverso tipo quindi sostanzialmente il fatto è che questo valore è riciclato più volte questa è una differenza importante prima accennava al tema della fine del lavoro lei addirittura nel libro ribalta questa questa impressione di cui si parla praticamente dagli albori dell'era industriale lei parla di addirittura di persone che rubano il lavoro ai robot com'è possibile questo libro schiavi del plic è basato su una provocazione una grande provocazione il fatto di sovvertire la retorica molto conosciuta della nostra civiltà che è la civiltà della fine del lavoro e piuttosto insistere sul fatto che questa fine del lavoro è una profezia che non si realizza mai è una idea che circola nella nostra civiltà in realtà dal diciassettesimo secolo ci sono degli esempi che risalgono effettivamente a quell'epoca di persone che dicono beh abbiamo inventato una macchina che ci permette di fare il lavoro di dieci cinquanta cento operai oppure abbiamo inventato la fabbrica che non ha più bisogno di operai quindi già agli albori della rivoluzione industriale c'erano pensatori inventori governi che cercavano di spingere queste tecnologie resta il fatto che se guardiamo i dati siamo in un mondo nel quale di fronte a diversi miliardi di persone che popolano il pianeta il numero di persone che lavorano e in più che sono formalmente impiegate ovvero sia formalmente salariate è il più alto della storia del mondo perché perché il lavoro non scompare al contrario anche soltanto per motivi demografici il lavoro resta una dimensione centrale della nostra vita e quindi ci troviamo di fronte a un mito il mito della automazione completa che un mito che soprattutto viene utilizzato per disciplinare la forza di lavoro ovvero sia per dire salariati attenzione se non fai come dico io ti ritroverai disoccupato perché una macchina prenderà il tuo gusto allora la macchina che sostituirà i lavoratori oggi all'inizio del ventunesimo secolo è una macchina di tipo particolare è una macchina intelligente quello che chiamiamo le intelligenze artificiali o l'intelligenza artificiale singolare in italiano piuttosto questa intelligenza artificiale è ce la immaginiamo sempre come dei sistemi che hanno una intelligenza sovrumana la realtà è molto diversa siri o cortana nei nostri telefonini sono delle intelligenze artificiali e sono molto poco intelligenti e questo libro dimostra che sono anche molto poco artificiali perché per poter far funzionare questi sistemi c'è bisogno di aggiungere di produrre di fornire un lavoro umano che è un lavoro poco conosciuto certamente poco conosciuto in italia rispetto ad altri paesi e che è un lavoro detto lavoro digitale che è un lavoro del click ovvero sia un lavoro di produzione di dati un lavoro a volte di verifica dei dati prodotti da questa intelligenza artificiale in alcuni casi addirittura è un lavoro di imitazione dell'intelligenza artificiale l'esempio forse più cinico ma anche più chiaro è quello di amazon mechanical turc è una piattaforma prodotta da amazon come il nome lo indica jeff bezos l'ha presentata la bellezza di 15 anni fa addirittura al grande pubblico dicendo questa è una piattaforma per produrre della artificial artificial intelligence ovvero sia della falsa intelligenza artificiale e ripeto nel cinismo dell'espressione è forse la visione più chiara di quello che racconti nel mio libro ovvero sia che tantissima intelligenza artificiale è in realtà esseri umani poco pagati che spesso in paesi terzi paesi emergenti o in paesi a basso reddito quelli che si definivano un tempo di paesi in via di sviluppo e che nel frattempo si sono sviluppati ecco in questi paesi spesso si trovano delle persone che sono coloro che correggono le trascrizioni dei nostri assistenti vocali che moderano i video postati su instagram su snapchat tiktok oppure le persone che giustamente addestrano i veicoli autonomi per evitare che si schiantino contro un albero o contro un semaforo queste persone sono pagate molto poco sono pagate veramente qualche centesimo per svolgere un lavoro che non è un lavoro formalmente inquadrato non è un impiego formale ma è un lavoro a cotti sono dei micro cottimisti e questa è la triste realtà e questa è una triste realtà che purtroppo per noi diventa soprattutto in tempi post pandemici estremamente presente anche nei paesi del nord globale anche in europa anche in america ci sono delle persone che svolgono questo lavoro mal retribuito del click e che si accostano e che accompagnano coloro che come noi svolgono lo stesso lavoro ma non retribuito ovvero sia di maniera in maniera gratuita quindi da una parte se capiamo bene ci sono questi decine di milioni di persone che fanno questi micro lavori ma retribuiti dall'altra però ci sono delle aziende che come quelle che le ha citato amazon apple facebook hanno un potere paragonabile o superiore agli stati in termini economici ma anche in termini appunto di controllo come forse avrebbe detto fucco ecco dai vede in questa situazione la radice di una possibile conflittualità sociale e politica anche nei prossimi anni la vedo questa radice di questa conflittualità politica se arriviamo anche se riusciamo anche a produrre una coscienza del ruolo dei lavoratori nella produzione dell'intelligenza artificiale il fatto di riconoscersi in quanto lavoratori sfruttati non è una novità storicamente parlando il fatto di riconoscere che questo sfruttamento non finirà perché non arriveremo mai all'automazione completa questo è uno sforzo in più questo è un passo in più che i lavoratori del click non hanno ancora fatto vedo un esempio concreto il fatto di credere che sì certo oggi io sono mal pagato producendo dati per facebook per per amazon ma questo lavoro presto finirà perché una volta che avremo addestrato tutte le intelligenze artificiali beh loro saranno veramente autonome e noi potremo finalmente concederci delle meritate vacanze forse godendo di qualche tipo di rendita da questa produzione interamente automatizzata purtroppo non è così che si svolge la produzione di intelligenza artificiale la produzione di intelligenza artificiale ha costantemente bisogno di essere aggiornata un esempio classico potrebbe essere non lo so le intelligenze artificiali sono usate nel campo linguistico per tradurre per interpretare quello che gli esseri umani dicono le lingue umane evolvono ogni volta ci sono termini che non usavamo due anni fa e che esistono oggi e quindi bisogna costantemente readdestrare gli assistenti vocali oppure un altro esempio potrebbe essere quello dei sistemi di riconoscimento di immagine dei gesti umani o delle caratteristiche umane hanno bisogno di essere aggiornate le faccio un esempio ci sono alcuni sistemi di riconoscimento facciale ecco questi sistemi da quando è arrivata la pandemia e quando un numero incredibile di esseri umani circola con una mascherina sul viso sono stati riaddestrati per riconoscere i visi umani non a partire da occhi naso e bocca ma soltanto a partire da occhi e altre caratteristiche quindi il fatto di dover costantemente riaddestrare questi sistemi ci obbliga purtroppo ad ammettere che l'intelligenza artificiale interamente artificiale non può essere realizzate realizzata dato il contesto attuale data la maniera attuale di produrre le intelligenze artificiali quindi la coscienza di classe dei produttori di questi dati e degli schiavi del clic questo lo mettiamo ancora una volta tra virgolette è subordinata al fatto di riconoscere che l'intelligenza non sarà mai interamente artificiale ecco questa è una condizione una condizione sine qua non per la creazione di forme conflittuali che permettano anche di riconoscere i diritti di tutti noi nella misura in cui tutti noi produciamo dati per grandi strutture digitali quindi al momento riguarda quello che sappiamo l'intelligenza artificiale non se ancora non prometta di essere completamente autonoma questo è consolatorio per chi paventa scenari alla terminator d'altra parte ci dice che non è finito il percorso del lavoro e della fatica umana per chi vuole saperne di più torniamo a consigliare schiavi del clic e ringraziamo antonio casilli per avercelo illustrato grazie a voi